La maestà in re imperatore è giunto a Pavia per inaugurarvi la mostra delle opere di Tranquillo Cremona e dell'arte lombarda del suo tempo, ordinata nel primo centenario della nascita dell'artista. La cerimonia svoltasi nel castello è stata animata da pittoreschi gruppi in costume e visconteo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.